Una delle poche cose, anzi forse la sola che io sapessi di certo, era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava ad aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo, io mi chiamo Mattia Pascal. Grazie caro, questo lo so, e ti par poco? Non pareva molto per dire la verità, neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè come prima, all'occorrenza. Io mi chiamo Mattia Pascal. Questo è l'incipit di uno dei romanzi più famosi di Luigi Pirandello, il Fumattia Pascal. Potremmo dire che è un romanzo che segna la tradizione scolastica, perché tra i classici che vengono proposti nel corso spesso dell'ultimo anno di scuola il Fumattia Pascal è piuttosto ricorrente. Ha un titolo che è diventato quasi proverbiale, ma che cosa c'è dietro questo titolo? Chi è il Fumattia Pascal? È un personaggio, un uomo grigio, un uomo anzi ingrigito dall'abitudine che vorrebbe staccarsi da questa routine e a un certo punto inventarsi un'altra vita, dunque un'altra identità. Tema che nell'opera di questo grande scrittore, drammaturgo Luigi Pirandello, è centrale. Il tema dell'identità, della costruzione dell'identità. In questo caso Mattia Pascal fugge da se stesso e costruisce una sorta di alter ego che si chiama Adriano Meis. Potremmo dire che la trama è riassumibile all'osso in questo tipo di movimento. Mattia Pascal è quest'uomo che muore a se stesso, non si suicida, simula un suicidio e rinasce a nuova vita altrove con un altro nome. Ma cambiare il nome significa davvero cambiare un'identità? E ciò che lo rendeva insoddisfatto, infelice, insicuro, è poi davvero ripulita questa coscienza nel momento in cui cambia il nome? C'è ovviamente qualche dettaglio che ha a che fare con la parabola biografica dello stesso Pirandello. Viene familiarmente da commercianti di Zolfo e questi possedimenti, queste proprietà, a un certo punto vengono allagate, siamo nel 1903, e questo contraccolpo economico e psicologico peserà molto su Pirandello. probabilmente è una delle molle generative del Fumattia Pascal, cioè l'idea di sentirsi non solo espropriati di una solidità economica, ma anche appunto di una sicurezza psicologica ed emotiva. Pirandello, che poi vuole dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, sente in quella fase della sua vita infragilirsi la sua quotidianità e probabilmente avrà sentito anche la voglia di scappare, di andare via, di morire a se stesso come accade appunto al suo personaggio. È un romanzo, il Fumattia Pascal del 1904 e Pirandello mostra come al solito il movimento tra la vocazione narrativa e la vocazione drammaturgica, c'è sempre questa sorta di pendolarismo tra narrativa e teatro. Le verità che guadagnano i personaggi sul palcoscenico sono verità che poi guadagnano anche i personaggi nello spazio del romanzo e spesso i personaggi sul palco, i personaggi che appunto nella espressione proverbiale sono in cerca d'autore, sono personaggi che cercano anche di costruire dei se stessi diversi alternativi. La riflessione che vale la pena fare su questo romanzo può prendere le mosse da una paginetta che vorrei leggervi e che segue di poco l'incipit. Noi anche oggi crediamo che la luna non stia peraltro nel cielo che per farci lume di notte come il sole di giorno e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo sicuro e dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose che ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo dovrebbero parirci miserie incalcolabili. Ecco, queste miserie incalcolabili, la verità dell'esistenza, la verità e l'assurdo dell'esistenza. Perché cosa viviamo in fondo? È uno degli interrogativi più forti di questo romanzo e poi un interrogativo che serpeggia in tutta l'opera di Pirandello. La parte che recitiamo nella vita, potremmo dire, la parte che a un certo punto qualcuno ci assegna o che ci assegniamo da soli. Che cosa ha di autentico dietro? È tutto ciò che facciamo nell'esistenza questo presumere di essere al centro di qualcosa. Poi che cosa rivela forse appunto l'insignificanza, il senso anche di inadeguatezza e anche di infinitesimale appunto miseria che spesso comporta ogni azione umana. Pirandello scrive narrativa risentendo molto di una temperatura realistica, potremmo dire anche veristica, della scrittura. Siamo naturalmente dentro un solco tardo ottocentesco in cui la scrittura è molto aderente alle cose, incollata alle cose. Ma è come se poi in questa sua apparente e, diciamo così, forma verista entrassero dei lampi cupi e deformanti. È come se il suo verismo, diciamo così, il suo naturalismo, e che appunto questo ancoraggio della scrittura alla realtà delle cose come sono, una sorta di impianto descrittivo comunque basico, fosse forzato espressionisticamente e filosoficamente. Che cosa vuol dire? Che sembrerebbe raccontare, limitandosi a descrivere ciò che accade, ciò che ha davanti, e poi dentro è come se ci fosse invece qualcosa come un crepitio sinistro. Le cose sono come appaiono, oppure c'è qualcosa che appunto le rivela nel loro assurdo, anche mostruoso. Faccio un esempio che viene da un altro romanzo di Pirandello che si intitola Uno, nessuno e centomila. Siamo sempre dentro una riflessione, il lavorio di una riflessione sull'identità. La storia comincia in un modo apparentemente davvero quotidiano, potremmo dire con un aggettivo assolutamente un po' fuori asse rispetto al tempo di cui stiamo parlando, che è una situazione minimalista, minimale, una cosa da niente, no? Una descrizione di un risveglio mattutino in cui un personaggio che si chiama Vitangelo Moscarda si guarda allo specchio e nel momento in cui si guarda allo specchio cerca di fare i conti con il proprio volto, cerca di capire quanto somiglia a se stesso. Si accosta a lui ed entra nel quadro dello specchio la moglie che gli fa notare che il naso pende da un lato. Questa piccola osservazione diventa per Vitangelo una sorta di deflagrazione identitaria. Che cosa intendo? È che quel naso a quel punto non è soltanto il naso che lui credeva fosse fatto in un certo modo, quel naso con cui fai conti guardandosi allo specchio. Quel naso diventa il correlativo oggettivo appunto di un tema radicale, come gli altri ci vedono. Questo vederci diversamente da come ci vediamo noi appunto fa entrare in conflitto la visione che abbiamo di noi stessi e con la visione che gli altri hanno di noi. Vitangelo in quel romanzo straordinario che è uno, nessuno e centomila si moltiplica appunto in uno, nessuno e centomila. È come se esplodesse la sua identità e lui non riuscisse più a riprendere se stesso, tanto è vero che nel finale lirico di quel romanzo Vitangelo finisce per assomigliare a tutto e a niente, come se vivesse in tutto ciò che è fuori e non più in se stesso. È come se dovreste immaginare proprio una sorta di esplosione, polverizzazione dell'io, per cui lui non c'è più, non è più dentro se stesso. Ecco, quello è un punto d'arrivo della riflessione che già in Fumattia Pascal e altri lavori teatrali di Pirandello cominciano a elaborare. E poi c'è un altro tema fondamentale, la solitudine. La solitudine che in questo inizio di Novecento forse si fa ancora più avvolgente e per certi versi insostenibile. È come se quest'uomo che comunque conosce il mondo degli affari, che conosce anche le necessità della vita pratica, avesse un altro livello di vita che è tutto libresco, tutto fatto di contatti con le ombre dei morti, con le voci degli autori che ama. È un mondo tra biblioteca e obitorio, in fondo, potremmo dire, no? Cioè fatto di risonanze che vengono da un oltre. E quel mondo libresco fatto di polvere, immaginatevi una stanza carica di libri, per chi non ha confidenza con quel mondo potrebbe essere qualcosa assolutamente di incomprensibile. Ma Mattia Pascal sta bene e male dentro quel mondo, comunque sente che quel mondo, ancora una volta a proposito di conflitti, è in attrito col mondo fuori. Forse è meglio sparire dentro quel mondo libresco più che occuparsi delle faccende minime della vita pratica. E allora nel momento in cui vuole scomparire avrebbe il sogno e il desiderio di essere riassorbito dal mondo libresco in cui sente di poter vivere. Però questo non può farlo, perché le persone intorno lo cercano, pretendono che lui ci sia, che lui esista. E allora fugge da Miragno, appunto, da questa cittadina in cui vive, da un ambiente in cui ha cercato di affermarsi senza riuscirci e vuole diventare Adriano Meis. Poi, la cosa straordinaria, e mi dispiace se in questa sede devo anche un po' darvi conto di come va a finire questa storia, neanche l'identità di Adriano Meis lo soddisfa fino in fondo e quindi deve sbarazzarsi anche di Adriano Meis. Vorrei portarvi a ragionare sul fatto che se provaste a pensare di cambiare il vostro nome, di diventare qualcun altro, di sparire alla vita così come è, ecco, se voi portate avanti questo pensiero dovreste poi chiedervi e chi resta al mio posto, diciamo chi sostituisce il fu xy. Questo aspetto, questa zona, diciamo così, di indagine è una delle più stimolanti del libro, perché nel momento in cui Mattia Pascal non c'è ma c'è, si consente, consente a se stesso di guardare la propria vita senza di lui. E qui uso una suggestione che viene da una storia simile che è scritta però da un autore americano che si chiama Nathaniel Hawthorne, la storia che Hawthorne racconta è quella di Wakefield, un personaggio altrettanto grigio e un po' disamorato della sua vita, che decide appunto di sottrarsi a quella vita. Ma a differenza di Mattia Pascal, Wakefield, si prende un appartamento di rimpetto a casa sua e guarda dalla finestra di fronte la sua vita senza di lui, cioè la vita che scorre sua senza la sua presenza. E sente una sorta di moto di nostalgia e anche di delusione, di frustrazione, anche di tenerezza, perché quelle luci accese nella finestra di fronte, ecco, gli danno conto di un film, potremmo dire, che continua ad andare avanti senza di lui. Ecco, è come se in Hawthorne, diciamo così, fosse portato all'estremo quell'essere spettatori della propria vita, che quando lo si dice in termini di locuzione idiomatica, no? Tu sei spettatore della tua vita, sei un passivo spettatore della tua vita, non sei protagonista, lo dici per magari appunto sottolineare una certa inerzia, una certa incapacità di azione. Si parla, ed è un termine tipicamente scolastico, di inettitudine. Ma poi appunto, di là del termine del lessico, diciamo così, della pedagogia letteraria, è interessante proprio ragionare sul fatto che questa posizione dello spettatore della propria vita è qualcosa che ci dice molto di tanti personaggi novecenteschi, che non è tanto il fatto che siano legati a questa sorta di appunto inerzia, di trascinamento senza grandi passioni, il punto è che riescono a guardarsi da fuori e se tu ti guardi vivere evidentemente appunto non stai vivendo fino in fondo, non sei assorbito dalla vita fino in fondo. Però questo potremmo leggerlo come negativo rispetto a certi canoni appunto di vita attiva, ma se invece affondiamo dentro la dimensione riflessiva del romanzo, ci rendiamo conto che l'unico modo per capire la vita che Pirandello contempla e quindi che Mattia Pascal contempla è quella di guardarla da fuori. C'è sostanzialmente, arriviamo a un termine invece davvero centrale, uno sdoppiamento. Perché quello sdoppiamento che potrebbe essere anche solo astratto, metaforico, io che vi sto parlando mi guardo da fuori mentre vi sto parlando e rifletto sul fatto che vi sto parlando. Ma questo è un movimento, diciamo così, dell'intelligenza che potrebbe produrre un minimo sdoppiamento nella consapevolezza che si ha di sé. Se io porto invece a radicalizzarsi questo guardarsi da fuori, se io divento spettatore di me stesso, ma non solo nei termini dell'inerzia, nei termini di un continuo obiettare a me stesso quello che faccio e quello che penso e quello che sono, comincio a vivere una sorta di sdoppiamento, che potremmo chiamare anche di natura schizofrenica, con termini appunto che poi non sono magari consentanei alle opere di cui stiamo parlando, ma che potrebbero aiutarci a leggerle, perché in fondo anche in Uno Nessuno e Centomila potremmo parlare di schizofrenia, di qualcosa che appunto produce identità parallele e contraddizione tra loro. In questo caso sdoppiarsi, per fu Mattia Pascal, è un movimento dell'intelligenza che Pirandello, autore, rende concreto, reale. Sdoppiati fino in fondo Mattia Pascal e diventi Adriano Meis e poi non ti basta essere Adriano Meis perché ti guarderai da fuori come Adriano Meis e ti farai orrore come Adriano Meis e vorrai uccidere anche Adriano Meis. È come se alla fine, diciamo, questo romanzo tutto sommato luttuoso e abbastanza disperato e fosse poi una meditazione sull'impossibilità di essere fedeli a se stessi nel momento in cui si prova orrore per se stessi e si prova orrore per il mondo in cui si vive. Quindi c'è un fondo di disamore per l'esistenza che comunque va assolutamente sottolineato. Questa insignificanza poi che Pirandello sente nella vita e nelle parti appunto che recitiamo nella vita. Voglio provare ad aggiungere ancora due elementi che hanno a che fare con l'atmosfera di questo libro. Siamo appunto all'inizio del Novecento e sentiamo anche un po' questo scarto tra secolo e secolo. Naturalmente l'Ottocento è appena finito e forse sta continuando a morire dentro l'altro secolo, però c'è ovviamente in questa narrazione il segno di un cambiamento, quantomeno di uno scarto anche interpretativo, appunto dicevo che si tratta anche di una forzatura filosofica nel racconto, perché se ci pensate il Novecento, proprio i primissimi anni del Novecento, producono da un punto di vista degli avanzamenti di filosofia, di riflessione antropologica, degli interessantissimi e sovversivi anche, momenti di considerazione sull'esistenza onirica per esempio. C'è chiaramente la lezione di Freud che è data proprio all'inizio del secolo e che ci porta dentro la stranaria del sogno come anche quella una dimensione parallela dell'esistenza e c'è qualcosa dentro questo romanzo come se fosse sognata, ma un sogno lucido, un sogno a occhi aperti, un sogno anche sgradevole, qualcosa che forse addirittura somiglia a un incubo. Ci sono tanti romanzi, potreste trovarne veramente molti, anche racconti lunghi, che stanno dentro questo strano solco che si apre tra un secolo e l'altro e che senza in realtà influenzarsi vicendevolmente vanno nella stessa direzione. Pure se prendessimo un romanzo racconto lungo come la metamorfosi di Kafka, dovremmo comunque interpretarlo come un'altra delle possibili estensioni narrative del tema della metamorfosi appunto dello sdoppiamento. Non so quanti di voi lo conoscono e l'hanno letto, basta ricordare l'incipit, anche in questo caso è notissimo, cioè un tizio qualunque, ancora una volta abbastanza grigio, che una mattina si sveglia trasformato in un gigantesco insetto. Gregor Samsa si svegliò trasformato in un gigantesco insetto, sembra un fantasy e invece in realtà è semplicemente una concretizzazione, cioè trattare realisticamente un presupposto che può essere onirico o appunto di finzione, ancora una volta una sorta di verismo espressionista forzato verso il fantastico, quello che succede anche in Pirandello per vie diverse. La metamorfosi nel caso di Gregor Samsa è una metamorfosi in insetto, gli altri non lo riconoscono in quell'insetto, lui si riconosce nell'insetto che è. Nel caso di Pirandello questa metamorfosi è un ulteriore atto mancato, perché è come se non fosse compiuta fino in fondo, tu provi a lasciarti alle spalle Mattia Pascal e Mattia Pascal ti insegue, perché non puoi liberarti di quello che sei, come appunto per altre vie Gregor Samsa non può liberarsi dell'insetto che egli stesso contiene. Quindi questa dimensione, diciamo così, se volete onirica ma da svegli, come se la realtà si rivelasse meglio quando assume i contorni dell'incubo o della favola nera, ecco questo ha molto a che fare con questo passaggio tra secolo e secolo, perché appunto in quell'inizio di secolo alcune esperienze filosofiche, letterarie e artistiche spingono verso questa possibilità di leggere il reale con una lente scura, con una lente deformante che è quella del sogno, dell'incubo, anche abbastanza angosciante. Vi leggo ancora un passaggio che centra proprio con questa metamorfosi come atto mancato. Di Mattia Pascal a un certo punto viene data notizia, rispetto a Mattia Pascal viene data notizia della morte. Non si aveva notizia di lui dal quanti giorni, giorni di tremenda costernazione e di inenarrabile angoscia per la desolata famiglia, costernazione e angoscia condivise dalla miglior parte della nostra cittadinanza che lo amava e lo stimava per la bontà dell'animo, per la giovialità del carattere e per quella natural modestia che gli aveva permesso insieme con le altre doti di sopportare senza avvilimento e con rassegnazione gli avversi fatti, onde dalla spensierata giatezza si era in questi ultimi tempi ridotto in umile stato. Quando dopo il primo giorno dell'inesplicabile assenza la famiglia impressionata si recò alla biblioteca a bocca mazza, dove egli, zelantissimo del suo ufficio, si tratteneva quasi tutto il giorno ad arricchire con dotte letture la sua vivace intelligenza, trovò chiusa la porta, subito, innanti a questa porta chiusa, sorse nero e trepidante il sospetto, sospetto tosto fugato dalla lusinga, che durò parecchi dì, man mano però riaffievolendosi che egli si fosse allontanato dal paese per qualche sua segreta ragione. Ma ahimè, la verità doveva purtroppo essere quella. La perdita recente della madre adoratissima e un tempo dell'unica figlioletta dopo la perdita degli aviti beni aveva profondamente sconvolto l'animo del povero amico nostro, tanto che circa tre mesi addietro, già una prima volta di notte tempo, egli aveva tentato di por fine i suoi miseri giorni, là, nella gora appunto di quel molino che gli ricordava i passati splendori della sua casa ed il suo tempo felice, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Con le lacrime agli occhi e singhiozzando c'è il narrava innanzi al grondante e disfatto cadavere un vecchio mugnaio fedele e devoto alla famiglia degli antichi padroni. Era calata la notte, lugubre, una lucerna rossa era stata deposta lì per terra, presso al cadavere vigilato dai due reali carabinieri, e il vecchio Filippo Brina, lo segnaliamo all'ammirazione dei buoni, parlava e lagrimava con noi, e Mattia Pascal giacque, forse tutta una notte e metà del giorno appresso, nella gora di quel molino. La straziante scena è quella di una morte simulata naturalmente, no? E allora in questo senso l'essere spettatori della vita, spinto alle estreme conseguenze, porta a essere spettatori anche della propria morte. Non credo che l'abbiate mai immaginate, anzi me lo auguro in fondo questa cosa, no? Però può sorprendere nel corso della vita il pensiero di dire, ma come sarà vedermi morire, diciamo così, come sarà assistere al mio stesso funerale? Pensiero che vale la pena scacciare naturalmente subito, però interessante da un punto di vista narrativo, no? Che cosa diranno gli altri di me quando me ne sarò andato? Se potessi assistere alla mia fine, al mio funerale? Ecco, è lugubre come pensiero, è un pensiero come direbbe Pirandello di tremenda costernazione, inenarrabile angoscia, ma Mattia Pascal si mette in questa condizione, quella di vedersi da fuori al punto di vedersi morire da fuori e quindi di assistere a questa tremenda costernazione, questa inenarrabile angoscia. E se quella tremenda costernazione, inenarrabile angoscia fossero anche un sollievo, per esempio, per i parenti di Mattia Pascal, questo dubbio naturalmente lo sollecita e lo inquieta e ancora una volta appunto mette in discussione la sua identità. Sì, molto amato, sì, molto rimpianto, ma quanto davvero rimpianto e quanto davvero amato? Ecco, in questo senso Pirandello è riuscito, nel fu Mattia Pascal come molte altre sue opere, sia narrative che drammaturgiche, a far esplodere, come dicevo, l'identità come un tutto. È come se si rendesse conto che quando diciamo identità al singolare sbagliamo perché identità può essere declinato solo al plurale, perché siamo fatti di molte identità e basta pochissimo appunto per farle deflagrare, per polverizzare ogni certezza su noi stessi. Basta la voce di qualcun altro che nota qualcosa che noi vorremmo non notare, non abbiamo mai notato. Basta il fatto di sentire qualcuno che dietro la porta dice qualcosa di noi che non avremmo voluto ascoltare. Basta il fatto di fingere di andarsene davvero di morire e assistere appunto al proprio funerale o al cordoglio più o meno autentico che gli altri provano appunto di fronte alla nostra scomparsa. Tutto questo ci mette in discussione e Mattia Pascal attraversa come fosse una sorta di inferno dantesco questo inferno dell'identità, di un'identità impossibile che non si sanerà mai, che non si placherà mai, non sarà mai ricomposta. Perché una volta appunto che hai deciso di morire a te stesso è difficile che tu possa risorgere a te stesso.